José Macin è un giocatore del Pescara. Il centrocampista di origini spagnole e nativo della Guinea Equatoriale è stato riscattato dalla Roma e sarà regolarmente a disposizione di Beppi Pillon per la prossima stagione. Il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone hanno ottenuto una corposa riduzione, visto che l'opzione è stata fatta valere versando 800 mila euro nelle casse della Roma con un abbattimento di quasi il 50% rispetto al prezzo che era stato pattuito lo scorso gennaio di un milione e mezzo di euro. D'altro canto, da ieri sera, Ahmad Ben Ali non è più un giocatore del Delfino. Come nelle previsioni, il Crotone ha esercitato l'opzione per la cifra di un milione e mezzo di euro. L'addio al Pescara dunque ora è definitivo ed il centrocampista anglo-libico ha salutato i tifosi biancazzurri con un grazie su una Instagram Stories che è immortale a uno dei momenti più belli di Ben Ali in biancazzurro, l'esultanza sotto la curva nord dopo il gol segnato al Trapani nella finale play-off del 2016. Ben Ali si lega al Crotone fino al 30 giugno 2021. Resta da vedere se rimarrà in terra pitagorica o se sarà a sua volta ceduto ad un club di Serie A. Anche Dario Zuparic non è più un calciatore del Pescara. I croati delle Rieca hanno esercitato il diritto di riscatto per circa 800 mila euro. L'attuale giornata chiude la finestra riservata all'esercizio dei riscatti. Non ci saranno sorprese per quel che concerne Francesco Zampano che non diventerà giocatore dell'Udinese e resterà per ora un calciatore del Pescara in attesa di procedere all'operazione col Genoa. Sugli altri fronti il Delfino seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda Melchiorri. Il Carpi ha una opzione di riscatto da esercitare per 1,3 milioni di euro. Se la società emiliana non riuscirà a tenerlo l'attaccante marchigiano farà ritorno al Cagliari e in quel caso il Delfino potrà iniziare l'assalto per riportare Melchiorri in rival adriatico essendo tra gli obiettivi primari per il reparto d'attacco. Il tutto anche in attesa di capire quello che ne sarà di Stefano Pettinari la cui situazione è in stand-by. Non mancano alternative a Melchiorri. Bruno Petkovic è un vecchio pallino bianco-azzurro ma il neotecnico del Bologna Filippo Inzaghi vuole prima testarlo nel corso della preparazione precampionato. Più praticabile può essere la pista Lamin-Yalou che tornerà per fine prestito al Chievo dopo la stagione fatta al Cesena.